Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento col TMV News, parliamo della Roma inizialmente che è uscita dall'Europa League dopo la sconfitta netta con il Siviglia, una Roma che praticamente non è mai scesa in campo, è parsa assolutamente irriconoscibile ed è un K.O. grave perché l'Europa League rappresentava la competizione con cui poter impreziosire la stagione. Ivan Cartia, buonasera, è stato da parte della squadra giallorossa il peggior modo di presentarsi alla nuova proprietà? Buonasera Lorenzo, sì la Roma sceglie effettivamente il modo peggiore per salutare la nuova proprietà ma anche un modo non voglio dire consono ma quasi diciamo in linea con la delusione che in fin dei conti è stata l'era pallotta per salutare quest'epoca del calcio giallorosso che che se ne va, zero trofei in otto anni nella giornata che segna la firma del contratto per eliminare per la cessione da pallotta a Fridkin, i giallorossi incappano in una vera e propria debacle europea al di là del risultato della sconfitta contro il Siviglia la squadra di Fonseca non c'è stata, Fridkin sicuramente non avrà sorriso nel vedere la partita ma è una gara che dimostra quanto lavoro ci sia da fare perché tutto sommato la stagione dei giallorossi soprattutto per quanto riguarda il campionato può considerarsi relativamente positiva uscire così dall'Europa League è sicuramente una cosa che fa riflettere fanno riflettere le parole di Dzeko che nascondono neanche troppo una critica abbastanza esplicita in realtà al tecnico Paolo Fonseca fanno riflettere alcuni errori individuali su tutti quelli del portiere Paolo Lopez ma gli andalusi nel complesso hanno davvero dominato per fare il salto di qualità e torniamo a quello che ha detto il bosniaco serve tanto non lo dovrà più mettere in campo Pallotta dopo la giornata di ieri dovrà farlo Fridkin che sta già iniziando a lavorare al nuovo organigramma ai nuovi vertici di casa Roma tra sogni come può essere quello di Paratici obiettivi concreti tra un rinnovamento che porterà via per esempio la figura del consulente di Pallotta Baldini ma terrà per fare un altro nome il CEO Fienga la Roma guarda avanti ripartendo anche dalle cenere di una brutta sconfitta europea è già collegato con noi e lo saluto Franco Ligas ciao Franco buonasera ciao ciao Lorenzo buonasera o buongiorno a tutti a tutti parliamo anche con te della Roma che cosa è successo ai giallorossi che ieri sono andati incontro ad un KO inatteso grave sono sembrati assolutamente incapaci di entrare dentro la partita perché io ho l'impressione che i giocatori del Siviglia corressero e invece la Roma camminasse correndo o correndo camminare che non è la stessa cosa che correre e poi in ogni caso è stato subito penalizzata da un errore del portiere che è una cosa è quasi vergognosa ora siccome in effetti la Roma ultimamente non stava giocando molto bene per quella meraviglia è relativa per me è relativa però eh poteva essere un obiettivo che doveva essere in qualche modo tenuto in grande considerazione da parte dei giallorossi che avevano tra l'altro la possibilità vincendola di entrare in Champions League vincendo l'Europa League sì questo è vero però eh non sempre le parole servono ai se conseguono i fatti è perché la Roma ultimamente non sta giocando bene non basta dirlo è per poter cambiare l'andamento un andamento che non è straordinario ecco diciamocelo francamente per cui però magari dal punto di vista del morale sembrava esserci sembrava esserci una condizione psicologica giusta visto che nel finale campionato le vittorie eh c'erano state me c'erano c'erano state però erano sempre il frutto di un calcio spettacolare oppure di una serie di partite dove qualche volta anche gli avversari erano in difficoltà dobbiamo pensare anche questo poi tu hai vai in Europa è di fronte una squadra che è motivata è una squadra che comunque ha nel suo dna lottare per l'Europa è un questo è un avvantaggio capito mentre c'è la Roma adesso era preoccupata più che altro per il cambio della proprietà il cambio dei dirigenti troppi cambi eh tutti assieme per pensare che una squadra potesse cambiare in meglio cioè io veramente visto che hai parlato del del cambio di proprietà eh che cosa aspettarsi a questo punto da parte di Friedkin eh ci sarà eh un anno di diciamo così di ambientamento da parte del magnate americano oppure eh subito la Roma proverà eh ad essere competitiva almeno per la Champions sarà sarà difficile perché intanto ha un sacco di giocatori che sono costati tanto va bene e quindi per poter eh pensare di avere una squadra pronta per lottare per la Champions evidentemente ha bisogno di qualcosa in più qualcosa di nuovo qualcosa che scuota anche una squadra che si è adagiata un po' troppo in questo campionato lasciamo da parte il discorso del del virus altrimenti con la storia del virus non usciamo più dalla situazione troviamo centomila eh scuse per giustificare atteggiamenti comportamenti eh scadimenti di forma e tutte queste cose dobbiamo bisogna essere eh molto concreti eh la Roma ha da fare tanto perché ha dei giocatori giovani di qualità che però non sono mai stati una squadra con tutta la buona volontà eh dell'allenatore non c'è riuscita il cambio il cambio nasce della proprietà nasce dalla voglia di un di pallotta che vuole andare via a tutti i costi con il suo eh fondo perché ci ha rimesso troppi soldi e e chi ha i fondi deve guadagnare deve produrre danaro e allora scappa prima di andare via e cercare di rimetterci al meno possibile gli altri cosa fanno vogliono spendere il meno possibile e sulla eh sull'altra bilancia mi dicono adesso io ti porto ma io ho letto delle dichiarazioni 200 milioni per il per il nuovo mercato a parte non lo so se attraverso le regole il fair play no si può rientrare in questi eh limite è una cosa che io non conosco e ne mi interessa ne mi cento mila duecento milioni non sono pochi e sono tantissimi ma non sempre producono qualità probabilmente sono un po' troppi duecento forse sono un po' meno i milioni che metterà a disposizione Friedkin per il mercato eh in effetti mi sembra eh che anche troppi se pensiamo che a Firenze per lo stesso commesso è già stato accusato a distanza eh di quattordici mesi no di aver tradito va bene l'entusiasmo entusiasmo poi al momento giusto eh i soldi non ci sono bisogna accontentarsi bisogna eh ha promesso la Champions invece ma la Champions si promette in un progetto a medio lungo termine mai immediato termine perché non si può perché la stessa Fiorentina di della Valle che è andata in Champions meritatamente perché ha giocato bene però è stata agevolata dal fallimento di alcune squadre di un certo livello in quel periodo erano soprattutto Milan e Roma se tu pensi che un anno ci sei andato grazie al Genoa che aveva soltanto una differenza reti inferiore vuol dire che si può ottenere tutto se il calcio è ancora questo allora se sei fortunato ci puoi andare ma tu proprietario non puoi promettere l'immediato mai e lo stesso deve fare il nuovo proprietario della Roma. Hai parlato del Milan ti è piaciuto Boban nell'intervista alla Gazzetta dello Sport è anche merito suo se il Milan ha avuto questo rendimento nel corso della seconda parte del campionato? Beh e allora Boban è un signore e quindi riconoscere i meriti gli rende merito però è una persona per bene e lo ha fatto e tu lo sai che dal di là della diplomazia poi bisogna sapere realmente che cosa è successo c'è anche da dire è che il il Milan è soprattutto Ibraimovic e soprattutto Ibraimovic perché è riuscito anche a a cancellare alcuni giocatori che nel bene o nel male condizionavano il Milan fra tutti Suso e quindi nel momento in cui togli quei giocatori che ti danno l'impressione di poter vincere tutto ma spesso e volentieri alla fine stringi stringi giocano soltanto per se stessi e non per la strada per la squadra perché non hanno continuità beh il il Milan è cambiato grazie grazie a Ibraimovic non grazie all'alzatore non grazie a Maldini ecco non grazie a Maldini non grazie al sacrificio di di Boban va bene quindi in questo momento Ibraimovic non è soltanto un giocatore straordinario ha un cervello straordinario una personalità straordinaria e Pioli da persona altrettanto ecco io apprezzo apprezzo moltissimo anche Pioli Pioli l'ha riconosciuto e non si nasconde non si nasconde da questa realtà quindi se uno pensa che il Milan abbia risolto i problemi il Milan siccome passa un anno per Ibraimovic e deve rinforzare la squadra sfruttare questa spinta questa trasformazione e che ha provocato l'esplosione di Ibraimovic però deve fare una squadra più competitiva eh altrimenti non sei d'accordo con non sei d'accordo con Pioli che dice che basta poco per rinforzare questo Milan ma certo è poco però bisogna conoscerlo quel poco eh capito e dirlo è facile è poco poco perché questa volta è ottenuto un grande risultato ma soltanto se viene a mancare Boban è un è un politico Maldini è la stessa cosa Ibraimovic è uno che va dentro e dice oh mi spiezzo in due io esagero però questa è la sostanza e gli altri sono stati obbligati a darsi da fare ed è venuta fuori anche se non la classe è comunque il carattere e la personalità di altri giocatori quindi deve fare il giusto e poco se lo sa riconoscere e se lo trova altrimenti altrimenti fa come fa come conte che dice e io voglio io voglio io voglio io voglio e si dimentica dietro che c'è un pozzo eh di di giocatori senti Franco prima di salutarti in trenta secondi ti piace di Francesco per il Cagliari? Allora io sono contento sono contento eh perché può far divertire quel divertimento che non c'è più stato nel Cagliari però però se non ci sono quei tre giocatori che c'erano Nangolan eh Rog e Nandes diventa tutto quanto più difficile anche per lui però gli auguro buon buon lavoro perché è una persona seria e mi piace io ho paura ho paura e o meglio mi auguro di sbagliarmi e che il presidente Giulini una volta tanto ascolti l'allenatore piuttosto che se stesso e i suoi piccolissimi pochissimi e come si dice quelle persone che consigliano consiglieri bene Franco grazie per il tuo intervento buon proseguimento di serata a tutti a tutti il saluto spostiamoci adesso a parlare della Napoli che domani affronterà in Champions il Barcellona si parte dall'uno a uno dell'andata impegno chiaramente molto difficile per la squadra di Gattuso che ha comunque recuperato Insigne è tra i convocati per il match di domani per parlare di questa sfida sentiamo il parere di Alberto Polverosi se il Napoli può farcela come può superare questo ostacolo durissimo rappresentato dagli spagnoli ma il Napoli ha fatto ha vinto la Coppa Italia ed è un trofeo importante però credo che quella che quella vittoria lo abbia troppo accontentato troppo ha riempito la pancia e nelle partite successive di quelle di campionato si è visto mi pare che il Barcellona sia comunque superiore anzi tolgo mi pare il Barcellona è superiore al Napoli e quindi non lo vedo poi l'uno a uno dell'andata non lo vedo messo bene come qualificazione vedo però una squadra anche lì dipenderà molto da Insigne perché Insigne stava facendo bene dipende se è presente se ci sarà o meno e soprattutto in che condizioni sarà ma vedo il Napoli fuori in questo momento. E dando uno sguardo al futuro Osimène ti piace per quello che hai potuto seguirlo? Guarda io mi ha deluso francamente Milik sono sincero perché all'inizio della sua avventura italiana quando era venuto per sostituire Higuain io seguivo il Napoli in Champions e lui a Kiev segnò due gol contro la Dinamo Kiev davvero centravanti di testa ma facendo gioco con la squadra. Ero convinto fosse veramente un ottimo acquisto preciso per il Napoli invece poi dopo si è dimostrato non come pensavo. Per cui l'attaccante che prendono Osimène è un attaccante di spessore uno che fa gol uno che può inserirsi bene e credo che con Gattuso possa trovarsi molto 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 bene. Diamo adesso uno sguardo alla Fiorentina che sta progettando la nuova stagione dopo la conferma di Iachini in panchina naturalmente ci sono vari nodi da sciogliere a partire da Chiesa bisognerà vedere se ci saranno effettivamente delle offerte per il talento della Fiorentina ma intanto noi per parlare dei Viola del futuro dei Viola abbiamo avvicinato Fiona May grande tifosa della Fiorentina ai nostri microfoni sentiamo che cosa ha detto È sempre un incubo capito? Prima sta andando a Benino e c'è un po' di crisi già pre-Covid poi durante pensavo va bene speriamo i ragazzi lo sanno che deve fare e c'è un questo tregua un po' di positivo però non mi convince non mi convince non so che cosa c'è dietro del spogliatoio capito? Però come ho visto giocare hanno perso qualcosa però se proprio mentalmente la mentalità capito? Ma sta fermo perché è una cosa molto particolare un po' dei giocatori qualche giocatore ha preso anche dei virus che non è una bella cosa e io spero dopo aver finito va bene ha finito benissimo non è in bellezza la vita non va bene e penso tutti i ragazzi tornano a casa riposano e via devono proprio far vedere com'è un Fiorentina che deve essere perché è pesante capito? Io vi dirò Fiorentina vai o non vai vai o non vai che è successo? C'è quella sensazione che non riesce a partire a decollare? È quello è quello che non capisco poi io e l'Alisa paliamo proprio lungo questa cosa anche lei ma non capisco ma neanche io amore mio guarda infatti perché già subito dopo Natale siamo andate a vedere con 30 è stata veramente una parte via adesso pareggio all'ultimo minuto? Pareggio all'ultimo momento che è stata benissimo anche se sono innamorata con la Lukaku però a parte quella più scende quello e ho detto ecco via e poi non c'è stato anche il cambio d'allenatore è arrivato Iachini che è stato confermato te l'aspettavi questa conferma di Iachini? Sinceramente no no però non posso faccio quello mio e i miei pensieri no io spero Iachini proprio la stacca deve fare come non solo come tipo mister ma anche tiene questi ragazzi perché sono talentuosi ragazzi cioè sono undervaluati proprio sottovalutati e devo mettere fuori deve spuntare fuori deve proprio fiorisci perché non vedo ora vedere Fiorentina forte capito? cioè non ce la faccio più Quindi questo è il messaggio che Lancia ha commesso che deve fare una Fiorentina più forte deve dare tutto se stesso ancora di più per poter fare una Fiorentina sempre più ambiziosa? Sfortunatamente nel sport è così devo proprio fare investimento poi deve andare di più non è questione di allenamenti è questione di psicologico un po' mentale e deve andare di più io guardo il punto di vista come tipo ex atleta e puoi vedere proprio qualsiasi allenatore però se questo allenatore non trasmette qualcosa di positivo per giocare come una squadra allora non va avanti e questo è un messaggio però questa è una cosa personale però per me è più fiorentina io voglio dire proprio i fiorentini che con i sogni che giocano bene che non avevano paura perché siamo sono bravi sono un po' giocatori però deve mettere posto come una squadra vincente devo credere di più in loro stessi anche e chiesa secondo te alla fine che cosa farà quale può essere la soluzione migliore secondo te? non lo so solo lui lo sa perché noi interiore di noi sappiamo proprio la risposta lui deve cercare dentro di sé per sapere esattamente cosa lui vuole fare e quello è sostanza quella è la domanda non lo so perché non sono non ero mai un'ex giocatrice non so com'è la situazione non so la verità che è successo dietro a te la porta non posso commentare e dire chiesa di fare questo lui deve cercare lui deve capire cosa lui vuole basta e quando lui è chiaro che cosa è il suo obiettivo allora vai con convinzione non così 50% poi cambia idee e quello poi c'è troppe voce in giro dopo questo è pesante allora lui deve chiudere proprio con sé e dire guarda cosa voglio fare io punto bene dopo questa chiacchierata con Fiona May sempre brillante molto interessante ci salutiamo siamo alla conclusione del nostro TMV News ma ci ritroveremo come sempre domani con l'appuntamento del sabato grazie per averci seguito buona serata grazie per averci seguito